È una ricorrenza internazionale celebrata il 27 gennaio di ogni anno, giornata in cui vengono commemorate le vittime dell'Olocausto e viene ricordata la liberazione del campo di concentramento di Auschwitz avvenuta nel 1945 ad opera delle truppe sovietiche dell'Armata Rossa. Quest'anno l'amministrazione comunale di Fanno ha voluto coinvolgere la cittadinanza e le scuole superiori mediante la testimonianza di una storia di salvezza durante l'occupazione tedesca e anche la scopertura di un epigrafo in ricordo del soggiorno a Fanno di profughi ebrei superstiti dei campi nazisti. Per l'occasione, martedì prossimo alle 9, si terrà una seduta straordinaria del Consiglio Comunale. La cosa che abbiamo voluto in più è, proprio per il settantesimo anno dell'apertura del campo di Auschwitz, ricordare i 150 ebrei che sono stati a Fanno dal 1945 al 1948, ospiti della nostra città e quindi questo sta a significare che la nostra città ha dimostrato grande ospitalità e grande sensibilità, sono stati a Fanno, questi 150 ebrei hanno costruito la loro nave e sono poi ripartiti per ritornare nel costruendo Stato di Israele. Un segno quindi di sensibilità da parte dei fanesi nei confronti della comunità ebrea che vuole essere ricordata con la posizione di un epigrafe alle 11.30 all'ingresso del Palazzo Comunale e sarà per gli anni futuri un luogo dove le istituzioni, in occasione del giorno della memoria, deporranno una corona per non dimenticare. Sarà l'occasione per proporre un appuntamento di approfondimento basato su una storia reale, ricostruita dal giornalista Arcuri in un libro, Memme Bevilatte, salvata da Teresa, che racconta una vicenda di solidarietà, una delle tante vicende di solidarietà che negli anni dell'occupazione e delle persecuzioni razziali il nostro paese ha conosciuto, di una famiglia italiana che ha protetto, nascosto una bambina di origine ebraica. È un appuntamento che proporremo la mattina e che riproporremo poi alle 18 alla Sala Ipogea della Mediateca Montanari per offrire ovviamente questa opportunità a tutta la cittadinanza. Riteniamo possa essere una pagina importante da recuperare e da far vivere.